Mi è sembrato opportuno chiedere con una interrogazione un intervento del Ministero. Ritardi, polemiche, attese, ma il ponte di Bassano in un botto riesce a portare l'area pedemontana a Roma. A proda sui tavoli del Parlamento l'irrisolta questione dei restauri che sta mettendo sotto la luce dei riflettori quest'angolo di nord-est, che in questo caso avrebbe preferito rimanere in ombra. In Parlamento si vuol far chiarezza sulle perizie, quella redatta prima dei lavori e quella successiva. Per verificare quale di queste due relazioni è quella giusta, quella quaretta, è per vedere se effettivamente ci sono delle situazioni di precarietà per quanto riguarda il ponte. Uno dei ponti più famosi del paese, un monumento nazionale sul quale si vuol vedere chiaro, agli onori della cronaca, proprio nei giorni della donata del Piave. Fra l'altro questo si è verificato proprio durante i giorni in cui a Treviso avevamo la donata degli alpini. Bassano chiama Roma, ora speriamo Roma risponda. La città, con la sua storia e i suoi residenti, attende.